Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla FIPILI. In FIPILI per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia, provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Sulla statale 2 via Cassia, senso unico alternato per lavori di ripristino dopo una frana tra i chilometri 150 e 700 e 151 a Radicofani in provincia di Siena. A Firenze, alla Fortezza d'Abbasso, fino a domani è in programma Pitti Bimbo, i provvedimenti di viabilità sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! A Firenze